L'incidente nella serata di giovedì 4 luglio intorno alle 21.30 in via Valperga SP13 a Busano. A scontrarsi due vetture, una Volkswagen Polo condotta da una donna e una Renault Megane con a bordo un giovane. Lo scontro è avvenuto proprio all'incrocio con la via che conduce in centro a Busano. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte, la Protezione Civile per la Viabilità e il Vice Sindaco Leonardo Corbo. Il conducente della Megane è stato subito soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale di Quornier. Fortunatamente ha riportato solo ferite lievi, illesa la donna a bordo dell'Apolo. La mia famiglia è stata subito, è stata subito, è stata subito, è stata subito. La mia famiglia è stata subito, è stata subito. La mia famiglia è stata subito, è stata subito.